Un sostegno a Ilaria Caprioglio, candidata sindaco di Savona, un sostegno alle liste che la appoggiano perché anche Savona deve cambiare, deve dimostrare che il vento che ha fatto cambiare la Liguria è in grado di cambiare anche Savona, una Savona che è una città, uno dei quattro capologhi di provincia della nostra regione, ma che è una città bellissima con prospettive sia turistiche e commerciali molto ampie da sviluppare, può essere il centro turistico di tutta la provincia, il maggiore terminal crociere che abbiamo, centinaia di migliaia di persone all'anno la visitano per poi magari partire per le crociere, ma ha tutta una ricchezza in sé che deve essere naturalmente sfruttata al massimo, ha degli angoli che sono sicuramente da recuperare, ma è una città che può dire la sua anche dal punto di vista turistico assolutamente nel panorama generale di tutta la Liguria, quindi io sono certo che l'area Capreglio sarà a declinare al meglio tutte le esigenze della città di Savona e saprà declinare al meglio anche le possibilità turistiche, le prospettive turistiche di Savona città.